quindi avremo un collegamento anche con loro perché comunque la solidarietà è sempre molta e questo sicuramente ci fa ben sperare anche per rilanciare prossime iniziative. Prima di entrare un po' nel clou della discussione avremo un sacco di domande per i nostri ospiti, più che ospiti mi piace chiamarli anche compagni di viaggio perché comunque secondo me se sono ancora qua in questo momento è perché comunque ci credono e per noi è molto molto importante anche questa solidarietà. Prima ne approfitterei per farvi vedere anche un video, un video molto importante dedicato alla nostra compagna Cecca che in questo momento non può essere qui con noi perché rinchiusa in quel posto infame che appunto sono le carceri, le carceri delle vallette perché comunque così come tanti e tante di noi mettono in prima fila i loro corpi anche per costruire un futuro migliore. Quindi farei vedere questo video e poi proseguirei con la discussione. Grazie a tutti e a tutte. Salute a tutte e a tutti. Con queste righe vorrei ringraziare tutte le persone che in queste settimane mi hanno scritto, fatto arrivare il loro pensiero di solidarietà e sostegno. È un dono prezioso da ricevere dentro queste mura, un affetto che ho condiviso con tutte le altre detenute del carcere. Il presidio dall'esterno si è sentito e ha fatto ballare e sorridere, portando un po' di colore tra tutto questo grigio. Non ho mai dubitato della nostra forza e questa esperienza conferma solo questo mio pensiero. Nei primi giorni le altre detenute erano pensierose rispetto alla mia presenza qua dentro. Anche a loro sembrava un'ingiustizia. Dopo il presidio in molte mi hanno chiesto di spiegare chi ero e sono stata felice di poter raccontare tutto quello che insieme abbiamo fatto in anni di lotta. A testa alta, senza mai perdere lucidità e determinazione. Dalle lotte notabba ai cortei a Torino e non solo, sempre a fianco di chi combatte per un mondo migliore. Della bellezza dei presidi e di tutte le iniziative che ci hanno visto passare giorni e nottate, fianco a fianco, sempre presenti l'uno per l'altra. Questi giorni qui dentro hanno solo rafforzato il pensiero che tutto quello che facciamo merita il nostro impegno. Il nostro sforzo e a volte anche qualche sacrificio, ma sempre con la consapevolezza che un camminare collettivo è l'unica strada da seguire. Voglio mandare un saluto agli studenti e studentesse e tutti i giovani che sono scesi in piazza per far sentire la loro voce contro chi continua a sfruttare la terra per arricchirsi, inirando il grido di rabbia che sale dalle piazze italiane. Sono con voi e vi auguro altre giornate di lotta, di non perdere l'entusiasmo e la voglia di essere protagonisti in tutte le lotte per il clima, ma anche per una scuola libera da ogni nuovo e vecchio fascismo. Un pensiero avanti tutte le compagnie e donne che scenderanno in piazza all'8 marzo e che riempiranno l'ospezione di MUDM. Vi mando il mio abbraccio. Anche da tutte voi ho ricevuto immensa solidarietà e anche se quest'anno non potrò esserci, sarò lì con il pensiero a gridare una volta in più che se toccano una, toccano tutte. E' ovvio dirvi che molte delle donne con cui condivido il carcere si trovano qui per colpa di un sistema patriarcale che le isola e le rinchiude nel ruolo di mogli sottomessi al valore di un uomo padrone. E qui si vede solo un pezzo di questa società che va cambiata tutte insieme. Buon corteo e lotto marzo sempre. Quando dentro quelle aule del tribunale si stava svolgendo un processo a un interrogatorio a carico di una compagna che era stata molestata durante un fermo di polizia. Questo vale sempre la pena ribadirlo, che l'unica strada che da sempre consideriamo quella giusta è quella della lotta per migliorare questa situazione, questo mondo. E penso che insomma a persone come lei vada ancora un grosso applauso. Bene, allora prima di introdurre un po' l'argomento di questa sera, della campagna, c'è un altro video che è un po' un video che sta circolando proprio come lancio di questa campagna avvenuta dopo che è stato perquisito il centro sociale e i sigilli che sono stati messi oltre che ai frigoriferi anche oltre al sequestro dell'impianto. Quindi farei vedere ancora questo secondo video se è pronto e poi direi che possiamo passare anche la voce ai nostri amici artisti. Grazie per la visione! Aska è la mia città, Aska-Tasuna è un punto di riferimento, solido porto sicuro a cui guardare nel mezzo del marasma dell'oggi. È la sponda a partire dalla quale rafforzarsi per non essere isolati come ci vorrebbero. È dove si può ragionare collettivamente per costruire un altro modo di stare insieme e dove lo si può praticare tramite l'autogestione e l'autorganizzazione. Aska-Tasuna è conquista, ma anche scommessa, per chi osa immaginare un esistente diverso. Oggi luoghi come questo, simbolo della volontà di agire contro per ottenere qualcosa di meglio, sono costantemente sotto attacco. Torino, città-laboratorio per attivare misure di repressione, contro la libertà, contro chi lotta. Ne è un esempio il processo in corso che accusa di associazione a delinquere no-tav, Aska-Tasuna, lotte abitative. La perquisizione al centro sociale Aska-Tasuna e la conseguente messa sotto sequestro dell'impianto musicale e del bar è l'ennesimo esempio. Questo avviene nella città in cui, al concerto di Capodanno organizzato dal comune, suonano gli stessi artisti che un mese dopo vengono denunciati per aver suonato in solidarietà alla campagna Associazione Resistere. Dove gli unici festival legittimi sono quelli che ricoprono di milioni di euro San Paolo, IREN, fondazioni private, nella stessa città in cui gli eventi gratuiti, costruiti dal basso, organizzati perché si vuole credere in altri mondi possibili, vengono criminalizzati. Stupirsi di tutto questo non basta più. Qui si tratta di avere cura di ciò che abbiamo, valorizzarlo e viverlo insieme. Aska è la mia città. Significa praticare insieme la solidarietà in una battaglia a difesa di ciò che deve continuare ad essere nostro, collettivo. Ci trovi al 47 e in città. Organizziamoci insieme a testa alta perché l'Aska-Tasuna non diventi territorio di conquista, ma continui ad essere spazio di lotta e di rilancio per tutti e tutte. Non vuole essere una presentazione né un dibattito, noi l'abbiamo chiamato talk, ma può essere anche una chiacchierata per far capire un po' che aria tira in città sicuramente, ma anche poi in tutto il resto del nostro paese. Perché quello che è successo, quello che poi ha dato vita a questa campagna, comunque è un precedente molto preoccupante direi, perché comunque, per chi non lo sapesse, chiaramente facciamo un po' una sorta di riassunto storiografico di quello che è successo. Questo famoso concertone del 15 ottobre, cui comunque avevano aderito e hanno aderito tanti e tante artiste torinesi, principalmente, che era stato appunto costruito per portare appunto la solidarietà al Centro Sociale Aska-Tasuna, al Movimento Notav, insomma le lotte abitative che appunto nel video abbiamo spiegato bene, perché comunque il contesto in cui avveniva questo concerto, avveniva in un momento in cui, come dicevamo, la Aska-Tasuna, ma non solo era sotto attacco, perché comunque c'è in questo momento qua un processo in corso che accusa appunto molti compagni e compagni di associazione a delinquere, e ci sembrava insomma il metodo migliore anche per portare poi in strada la solidarietà, che da sempre negli anni comunque si è costruita attorno al Centro Sociale, ma non solo, ci sembrava appunto di fare questo concerto davanti alla Aska-Tasuna. Chiaramente insomma un concerto con dei nomi molto molto importanti, che ringraziamo ancora perché non è mai scontato queste partecipazioni, a questi tipi di iniziative molto di solidarietà politica e quindi insomma sono stati diffidati dal parteciparvi. Questo chiaramente era, come dire, il motivo per la quale insomma, oltre che dei compagni anche dei musicisti stessi sono stati diffidati da cosa? Dal portare solidarietà alla Aska-Tasuna con l'obiettivo di questura e procura, quello di depotenziare l'iniziativa, cosa che chiaramente poi non è avvenuta, perché comunque il concerto il 15 ottobre si è tenuto lo stesso, ovviamente in una dimensione diversa, perché non solo agli artisti, ma anche ai nostri amici collaboratori tecnici sono arrivate le diffide. In maniera molto sbrigativa posso dire che sono andati a prenderli, a consegnarli questa fantomatica diffida nei magazzini, dicendo non vi presentate quella giornata lì, perché comunque rischiate che vi sequestiamo il sound, l'impianto, quindi era chiaro appunto l'intento di depotenziare l'iniziativa. E quindi insomma, in comunicato comunque, avevamo spiegato che se si volevano silenziare le lotte, noi avremmo comunque cantato a squarciagola. E così è stato, insomma, dal balcone del centro sociale, e anche in strada, insomma, molti artisti comunque sono riusciti a portare la solidarietà. E dopo, insomma, questo concerto del 15 ottobre, sono arrivate dapprima delle multe, multe molto salate, si parla comunque multe dal valore di 200.000 euro per 25 compagni e compagne, e poi chiaramente le denunce con anche altri arti artisti che hanno dovuto comunque sostenere poi un interrogatorio e quant'altro. Ma, come dicevamo anche nel video, questo non vuole essere, come dire, un talk, un dibattito dove, insomma, ci si lamenta della repressione, perché chiaramente poi è sempre così, nel senso, chi poi vuole portare un messaggio di cambiamento reale, solidarietà, a delle realtà che comunque cercano, in tutti i modi, di cambiare lo stato presente, perché, insomma, se siamo qui, anche perché non ci piace proprio questo mondo a 360 gradi, il festival di oggi, anche dello scorso weekend, parla chiaro, altri mondi, altri modi, vuol dire che comunque anche altri modi, altri mondi sono possibili, che devono partire appunto da luoghi come questo. e quindi, per dire, oltre alle diffide, alle denunce e quant'altro, questo vuole essere anche un momento di rilancio, tant'è che appunto la campagna Asca e la mia città parte proprio come un'iniziativa di rilancio. Ci hanno sigillato i frigoriferi, ci hanno dato delle denunce per frode in commercio, somministrazione, come dire, di alimenti avariati e quant'altro, ma soprattutto, come dire, ci hanno portato via quelli che per loro erano gli strumenti che ci servivano, come dire, a portare avanti le nostre cause, quindi l'impianto arrivando, insomma, con un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, tant'è che, insomma, avevano bloccato alle sei del mattino, dalle sei alle otto, otto e mezza del mattino, tutte le aree di accesso nel quartiere Vanchia, tant'è che, insomma, noi condividiamo anche... un quartiere con l'asilo nito, insomma, non riuscivano... non facevano nemmeno passare per dire alle maestre che dovevano, come, insomma, se fosse magari un covo di sei quali criminali, ecco, tant'è che, infatti, alla fine sembrava più un trasloco dove, alla fine, l'unica cosa che hanno fatto è portare via dei viustes scaduti e purtroppo, insomma, anche i nostri impianti musicali e i sound system, appunto, dei Vanchia Sound, e dimando che più che salutiamo, che in questo momento, appunto, sono a Milano a suonare in solidarietà alla campagna. Che dire, nel senso, chiaramente, da un certo punto di vista ci farebbe anche un po' sorridere queste accuse che, insomma, ci... le accuse che citano dalla procura, insomma, perché questo posto è un posto dove, come dire, ci si ritrova questa fantomatica associazione a delinquere e ci fa sorridere perché poi, appunto, si attaccano a questi... scambutati, ci mettiamoli così, però, dall'altra parte, comunque, fa molto pensare, permettetemi il termine, anche un po' incazzare perché qua poi si gioca anche sulla testa gli anni di, come dire, di condanne poi a compagni e compagni, quindi, chiaramente, bisogna anche prendere alito di questo. Per introdurre un po', insomma, penso che noi, come dire, con questa campagna qua tentiamo a portare il messaggio in tutta la città perché Asca, sicuramente, sono queste mura ma Asca è anche un modo di vivere la città in maniera diversa. Lo dicevamo bene anche nel video, nel senso, come dire, ormai i festival che sono consentiti sono quei festival magari che sono finanziati a, come dire, dalle classiche compagnie di San Paolo insomma, dove poi si crea per forza profitto quindi, come dire, una quasi... Prima parlavamo un po' nell'informalità che ormai anche andare a dei concerti sembra di andare al supermercato dove devi pagare un biglietto molto esoso e poi, come dire, una volta finito il tutto te ne esci senza poi che in realtà ti rimane qualcosa del fatto di vivere questi spazi qua, proprio di creatività, di cultura musicale, artistica e quant'altro. Quindi, secondo me, questo è un punto di partenza dalla quale, secondo me, è importante partire come luoghi che in questo momento sono sotto attacco perché comunque credono in una socialità anche diversa fuori dalle logiche di profitto e questo, secondo me, è un valore molto importante da sottolineare dove comunque ci si ritrova per stare assieme per discutere, per cercare, insomma, dei modi, dei metodi per cercare poi nel nostro piccolo e su scala anche magari più ampia di cambiare, insomma, quello che in questa società non ci va troppo a genio e ce ne sono tante di cose banalmente ci fa molto incazzare anche pensare che una compagna sia in questo momento in carcere perché, come dire, ha preso uno striscione in solidarietà ad un'altra compagna che ha vissuto delle molesse insomma, tutta questa serie di cose insomma, io vorrei, insomma, adesso cominciare un po' a discutere con i nostri ospiti i nostri amici, artisti magari comincio con Mada perché con Mada, insomma, abbiamo parlato un sacco di volte per dire dell'importanza di posti come questo nelle cantine dell'ASC anche con Mauras abbiamo fatto delle puntate proprio nello studio di registrazione creato in maniera proprio autogestita con le nostre singole forze per dare la possibilità a giovani di avere un luogo dove provare di riunirsi e secondo me anche la campagna ASC e la mia città va in questa direzione perché non è solamente un attacco all'ASC e a Tassuno ma tutti quei luoghi che cercano di portare una visione diversa di questo mondo e soprattutto del mondo del modo in cui fare cultura che per noi deve essere sempre accessibile a tutti e a tutte eh sì certamente allora vabbè inizio io cerco di di dare un po' il là da dalla parte di chi comunque non fa magari quell'impegno giornaliero e comunque militante sul campo ma lo fa dal punto di vista di vista artistico io compio 58 anni domani e esattamente da 40 suono quindi ho visto una grande trasformazione purtroppo in positivo e in negativo di spazi rivolti alla società eh alla socialità scusate e al io ho visto quello che è stato un apice molto eh deciso decisivo produttivo nei confronti di quello che era rapporto artistico dei musicisti favorito da questi centri di libertà di espressione come ho visto come sto vedendo come mi sto preoccupando di vedere un una situazione che è esattamente che è esattamente contraria allora come tirare come tirare le somme le somme le tiriamo molto facilmente guardandoci intorno io penso che siamo tutti noi eh tutti noi anche noi come 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 vogliamo chiamarci forse una volta eh ci chiamavamo antagonisti ci chiamavamo rivoluzionari ci chiamavamo con altre cose e beh siamo un po' schiavi tutti quanti del dello stesso delle stesse imposizioni delle stesse imposizioni che si sono buttate che sono diventate il nostro modo di essere quotidiano questo forse è progresso beh io metterei dei grossi punti interrogativi io metterei dei grossi punti interrogativi su quello che noi usiamo anche per fare controinformazione cioè comunque o anche per fare per fare musica che metterei dei grossi punti interrogativi perché non mi sembra che si stia ottenendo molto in questo in questo modo l'esperienza qui l'esperienza particolare questa era una divagazione generale su quello che poteva essere la mia esperienza personale l'esperienza con la scatassuna va avanti da un po' di tempo come esperienze analoghe comunque nella mia tra virgolette carriera vita di musicista sono andata avanti prima con situazioni simili a queste e sono per me sono state così fondamentali hanno segnato così tanto la mia vita da permettermi di continuare a fare la musica in un modo totalmente libero ora la musica non è più questo non rappresenta più questo e il grosso problema è ricercarsi in quello che rappresenta per le nuove generazioni questo è un punto fondamentale che io vorrei sempre toccare e sottolineare noi siamo nati con uno spirito che poteva andare dall'occitania di Sergio Berardo quella del sud quella del nord del mia però era uno spirito Sergio tu che hai anche qualche anno più di me di ribellione di ribellione hai tre anni di ribellione in più hai convincito tre anni ho capito che poteva essere in beh poi infarcita anche di di tutt'altro che poi ci spiegherai mi sembra di fare il presentatore in questo momento sono bravissimo comunque sostanzialmente quello che è successo qua Torino è stata una cosa veramente a mio parere sfiora il ridicolo però cioè non non l'avevamo mai vista quando ci siamo sentiti a a mente fredda abbiamo detto bisogna cercare di portare questa esperienza cioè di far sapere che questa esperienza è esistita perché a nostro parere un e penso che mi possano condividere anche gli altri e non voglio dilungarmi troppo è un punto di parte cioè è un è uno spunto per comunque essere e bloccare comunque in qualsiasi modo un'espressione libera musicale il fatto di andare colgo questo aspetto chiudere cioè blindare un impianto che ti deve venire a supportare musicalmente è è già un bel ragionamento comunque per certe persone che comunque perché hanno capito che comunque la musica deve essere amplificata ma non sempre perché si possono fare delle altre cose però cioè il fatto di comunque andare veramente alla radice e bloccare in questo modo implica che c'è un disegno molto preciso io sono di questa opinione per questo motivo io ho comunque voluto partecipare anche se gli Africa Unite non hanno partecipato perché ad un certo punto diventa anche impossibile comunque partecipare ad una cosa se non ci sono cioè come fai a suonare cioè non puoi farlo cioè lo fai allora partecipi individualmente ti inventi delle cose io e Sergio e Papa Nico abbiamo fatto una cosa totalmente improvvisata ma il punto è che comunque la cosa è stata bloccata con i fini mi sembra assolutamente costituisce un precedente ecco mi veniva costituisce un precedente che è un precedente grave ed è un precedente al quale tutti gli artisti d'Italia artisti non artisti amanti della musica tutti quelli che fanno un determinato discorso hanno fatto un determinato discorso dovrebbero opporsi in maniera molto ferma quello che stiamo cercando di fare è dare una prova tangibile del fatto che ci sono delle persone che hanno ancora questi ideali questo è possibile io non lo so sinceramente perché sono molto molto così cioè so quali sono le nostre potenzialità so quello che vogliamo continuare a dire ma non so esattamente cosa vogliono i cosiddetti giovani e gli artisti giovani a me pare che non gliene freghi un cazzo dopodiché passo a chi vuole intervenire vabbè secondo me dato che come dire si è tirato in ballo l'argomento giovani una cosa secondo me molto che comunque viviamo quotidianamente lo vediamo nel senso la scatassuna in quanto tale ha sempre avuto secondo me secondo noi una bella peculiarità di comunque di andare avanti di generazione in generazione quindi da un certo punto di vista con Mada sono posso essere d'accordo e invece ma su questo come sempre l'abbiamo sempre discusse tutto però ancora oggi secondo me anche a livello giovanile c'è ancora una grande forza per dire di ragazzi e ragazze che comunque vedono in questi posti come dire una via tra virgolette di uscita ma anche di riappropriazione della propria vita al di fuori di logiche appunto che li portano solamente alle logiche appunto di profitto di mero consumo della società e qui infatti vorrei fare una domanda a Willy Willy che comunque insomma uno uno degli artisti che insomma che comunque anche da qua dentro è passato prima chiaramente di calcare palcoscenici anche istituzionali molto importanti molto grandi e secondo me insomma anche il ruolo di un artista presente dopo comunque una denuncia dopo una diffida ancora qui perché comunque si crede che questi posti siano importanti anche per trasmettere valori valori che come dicevamo prima in questo momento qua purtroppo non si ritrovano più invece in tutte delle logiche magari meramente istituzionali che vedono solamente insomma la musica l'arte come solamente una fonte di guadagno fino a se stessa ma sì intanto buonasera secondo me il problema vabbè a parte ricordare che la procura di Torino è la stessa che ha chiesto i domiciliari per la P38 quindi comunque è una procura che sulla musica e su un certo tipo di repressione ultimamente va abbastanza forte non solo nei vostri confronti ma è stata rigettata per l'ennesima volta la richiesta dei domiciliari per la P38 però in ogni caso mi piace ricordare che viviamo in una città che sulla repressione sta dando abbastanza come dire fa da traino a tutta Italia poi oggi è un momento in cui i centri sociali e in generale alcuni luoghi di aggregazione vengono chiusi in maniera continua in tante città italiane ho molti amici a Genova molti amici a Bologna a Roma tutti ogni volta che viene fuori il discorso mi ricordano di quanto anche anche lì i luoghi di questo genere vengono costantemente o vengono chiusi o si cerca quantomeno di chiuderli come sta avvenendo qua detto ciò secondo me il problema è sostanziale e dopo la pandemia si è visto di più anche nell'incentivo al grande evento cioè il fatto che oggi si assista sempre più spesso a tour nei palazzetti o addirittura negli stadi numericamente molto più alti nel senso di di quanti tour fanno all'anno in quei posti rispetto a quando anche solo 5 anni fa e perché evidentemente l'industria sta cercando di investire sa che guadagnerà più soldi facendo un grande evento che non incentivando dal basso la costruzione di piccoli eventi questo però facendo anche secondo me il paio con quello che diceva Mada toglie la base per costruire qualcosa che diventerà di successo nel senso che io nella mia piccola esperienza ho cominciato frequentando come ascoltatore come spettatore i posti di questo genere i posti nei quali si creava la scena rap di una città o anche l'indie stesso che poi non esistono più ma in realtà hanno avuto un percorso di costruzione di sé nei piccoli luoghi di aggregazione e anche nei luoghi in cui si poteva fare in qualche modo qualcosa di alternativo a ciò che era l'offerta l'offerta pop o mainstream cosa che oggi viene tolta sì rispetto alla ricerca del profitto che però è il profitto di tutto nel senso che viviamo in una società nella quale l'unico segno del fatto che tu sia bravo a fare qualcosa è numericamente il successo che hai che sia economico che sia in fatto di visualizzazione di stream di like anche l'attivismo sta passando un brutto periodo perché si fa sui social e funziona allo stesso modo cioè tu sei bravo a mandare un messaggio in base a quanta gente ti ascolta e non è sempre così non sei un bravo musicista se c'è tanta gente al concerto non sei un bravo scrittore se c'è tanta gente che compra il tuo libro l'unico valore che noi analizziamo oggi è sempre numerico e questo toglie tutti i discorsi che abbiamo fatto prima perché di nuovo non incentiverò mai la costruzione di cultura in luoghi piccoli a me serve convogliare più gente possibile in posti molto ampi nei quali io ho un rincaro gigantesco organizzare un concerto soprattutto perché gli artisti che porto lì non hanno nessuna voglia di fare una bella produzione quindi non gli metto niente sul palco in un posto in cui ci sono 10.000 persone 50 euro a persona guadagno molto di più come azienda rispetto a organizzare un tour di un artista in tanti piccoli posti con mille persone al massimo in cui sul palco devi comunque mettere la stessa cosa e quindi è un come dire è un disegno complessivo disegno non so se definirlo disegno che fa sempre un po' andare a cercare il complotto però in qualche modo è evidente che se tu punti alla massimizzazione del profitto in tutti i campi è evidente che tu non punterai mai al piccolo punterai sempre a ingigantire e anzi proporrai anche a livello di proposta musicale un sacco di progetti tutti simili tra loro sperando che poi almeno uno ti ripaghi la scommessa non investirai sulla diversificazione tu investirai sempre sulla proposta abbastanza piattita anche a livello di cioè tu ne pensavamo che lo streaming avrebbe salvato il mondo dall'industria discografica lo streaming ha semplicemente peggiorato una situazione che già non era rosea nel senso che prima c'era la discografica che imponeva un percorso ma almeno faceva scouting adesso fa tutto un editore solo che non paga neanche gli artisti quindi anche l'idea che la democrazia dello streaming ci avrebbe salvato il culo si è verificata sbagliata ma in generale secondo me non è un discorso che vale solo per la cultura tutto viene portato al grande evento c'è la cultura del grande evento in tutti i campi e non credo di dire una cosa di cui non vi siete accorti perché è evidentemente così cioè una volta non c'erano dieci tour in uno stadio in un'estate cioè a San Siro se non giocano c'è un concerto e all'Olimpico di Roma uguale e storicamente non era così e non è così questo non toglie il talento di chi fortunatamente per lui al netto di una grande carriera sta suonando negli stadi è evidente che ci sia un disegno di chi gli organizza i concerti perché conviene di più fare un tour nei palazzi dieci che poi sono dieci e quindi c'è tutta una zona d'Italia che non verrà mai servita dai concerti di certi artisti perché tu in Calabria dove cazzo vai a suonare ci sono i tour ma i miei come quelli di tutti hanno dieci posti in Italia per suonare poi finito chiuso devi sperare che facciano un festival in estate festival che sono sempre meno perché anche lì tutti i festival che non hanno una grande sponsorizzazione non hanno retto dopo la pandemia e quindi i festival che ci sono sono sempre quelli e sono i soliti 15-20 che vedi perché poi basta vedere la line up di un tour qualsiasi di un artista più o meno nella zona di come dire notorietà nella quale mi muovo io i tour sono sempre quelli i posti sono sempre quelli i locali al chiuso sono dieci sono quelli lì a Roma c'è l'Atlantico a Bologna c'è l'Estragon a Torino c'è il Concordia a Milano c'è o il Fabrico l'Alcatraz perché Milano è in Gran Milano quindi loro ne hanno due ma in generale ed estate cosa fai? E fai il Flower se non fai il Sonic Park eccetera eccetera e quindi così per tutti non ne faccio una colpa agli artisti forse non ne faccio nemmeno una colpa al pubblico è evidente che siamo portati a non porci certe domande perché poi di colpo ci hanno tolto per due anni la possibilità di uscire c'è una generazione di ragazzi che a 16 anni per due anni non ha potuto imparare a frequentare i luoghi aggregativi e quando poi si sono svegliati ci sono solo i grandi eventi non credo sia una colpa loro non rendersi conto che c'era un'alternativa loro non la conoscono un'alternativa non è mai colpa di chi non ha conoscenza della cosa la causa non è mai il pubblico il pubblico viene educato o diseducato di volta in volta dalla proposta che viene incentivata da chi la proposta la fa e quindi secondo me non ne farei una colpa ai ragazzi per quanto è evidente e con questa chiudo che mi aspettavo ci fosse un po' più di attenzione al caso che siamo qua a esaminare non perché mi riguarda personalmente ma perché avevo penso che qualche anno fa ci sarebbe stata una come dire una levata di scudi generale da parte dell'opinione pubblica che non è avvenuta invece nello scoprire che questo posto cercano di sgomberarlo in tutti i modi accollandovi anche due viustri scaduti come somministrazione di cibo avariato al pubblico che denunciano gli artisti per un concerto e non è fregato un cazzo a nessuno e mi sono sentito dire da molte persone che non mia nonna che ha scoperto della mia denuncia al TG regionale che da qui mi aspettavo una reazione reazionaria in quanto donna degli anni 30 ma di persone che più o meno dalla mia età che mi dicono eh però anche tu ti avevano detto di non andare e a me questo vuol dire che ci hanno inculcato un po' a tutti ci hanno tolto quel fuoco secondo me in parte non ne faccio una colpa di nessuno mi sento parte in causa se le persone che dovrebbero essere il mio pubblico mi dicono eh però anche tu te l'avevano detto di non andare sei andato lo stesso secondo me il percorso è iniziato tanto tempo fa e ci hanno tolto le fondamenta della protesta un pezzettino per volta facendoci stare comodi a casa fondamentalmente grazie grazie Willy beh diciamo che insomma Torino come dicevi anche tu prima è una bella città insomma laboratorio insomma per attivare misure di repressione che sia poi come dire una misura cautelare dopo un corteo che sia per esempio anche etichettare coloro i giovani che cercano di come dire di occupare una scuola come fascisti perché ormai insomma è emblematico ma anche il caso dei ragazzi di Piazza Arbarello che ce ne sono purtroppo diversi quindi diciamo che c'è una chiara come dire idea da parte insomma di di coloro che amministrano le città e questure è tutto di additare insomma tutti coloro che alzano la testa e cercano comunque di mobilitarsi appunto con queste etichette del mostro in prima pagina è tutto quindi insomma è chiaramente insomma il nostro caso è anche molto emblematico accusare 16 compagni e compagni di associazione a delinquere insomma partendo anche come dire dal fatto che questo luogo come dire secondo le accuse è il centro criminoso di come dire dove si somministra si finanzia questa fantomatica associazione a delinquere insomma però la cosa secondo me più bella e forte che comunque è stato anche un bellissimo risultato anche di questo festival dove comunque ci sono state migliaia di persone di questo festival altri mondi altri mondi migliaia di persone che comunque l'hanno attraversato persone delle più svariate categorie insomma dal giovane all'abitante del quartiere come dire questa secondo me è l'ottica appunto su cui si prosegue la campagna Asca e la mia città detto questo volevo fare anche una domanda a Mauras perché Mauritos insomma è uno che questi posti comunque li ha attraversati sia come frontman di una band sia come come singolo sia come militante e insomma volevo avere anche come dire un suo parere perché lui vabbè adesso posso dire che insomma ha fatto anche una strofa rap che poi magari la faremo uscire la faremo sentire e tutto però insomma un argomento molto sentito e come dire si vuole silenziare coloro che alzano la testa e tu in un tuo pezzo dici insomma sì ma innanzitutto grazie dell'applauso non è mai scontato io cosa posso dire quando sento che una ragazza come Cecca o come è successo a tante altre persone quando sento di queste storie quando leggo queste pene che vengono inflitte insomma penso sempre che innanzitutto sono stato fortunato perché spesso ci sono anche io mi viene in mente la storia di Dana ad esempio quel giorno lì ti ricordi al casello e quindi ecco questa fortuna la devo per forza rimettere in gioco e quindi se quello che diceva Willy prima del suo pubblico che gli fa quei commenti pensate invece io nel mio mondo che è ancora più underground sono lasciato completamente solo solo ma veramente io vado avanti perché certe cose poi te le senti cucite addosso ogni tanto mando qualche video a Miki ad esempio quando ho suonato davanti alla GKPN dopo un anno di presidio quando ho un po' accennato le cose che erano successe in quel periodo lì c'era la storia di Maya c'erano come al solito i nomi di tante militanti e militante notav e lì c'è stato un grandissimo applauso nel senso che io sempre cerco di portare in giro questa roba qua però lo faccio davvero perché sono un pazzo scatenato perché sai sapete no questa cosa di di magari non essere tanto seguito io cerco di rimetterla ributtarla fuori e trasformarla in un punto di forza cioè essere una scheggia impazzita agire nell'anonimato cerco di farla diventare una caratteristica a favore del movimento delle lotte io ho sempre fatto solo cose nella nostra direzione perché come diceva Madask anche se io sono più giovane io sono nato guardando loro guardando quel movimento là sono nato però ascoltando il rap americano le poste non mi sono mai piaciute un granché nel senso che guardavamo agli americani come stile però io guardavo a loro come messaggi ho cercato di fondere le due cose però se non ti aggrappi anche a un'etichetta se non ti fai appiccicare sulla schiena che ne so la nomea del rapper militante queste cose qua che io ho sempre rifiutato diventa veramente difficile perché ti vedi suonare della gente che magari ha fatto qualcosina qualche anno fa e adesso magari ti chiede i 2000 euro per andare a fare un benefit per gli arrestati e vedi i compagni che si svenano per farlo e qui queste cose qua non le ho mai accettate le ho sempre dette e quindi come vi dicevo non è facile cercare di mantenere una linea pensare solo un po' da sognatore e andare avanti anche costruendo un seguito però ecco la fortuna di cui parlavo prima di essere qua alla fine quello che è capitato a noi è una sciocchezza in confronto a quello che vivono tanti attivisti e attiviste io cerco solo di rimettere a disposizione di tutti questa fortuna cercherò di far uscire delle canzoni le porterò in giro da solo come ho sempre fatto e lo faccio anche per lasciare una traccia a qualche ragazzo più giovane qualche ragazza più giovane che ogni tanto mi chiede delle cose perché è importante lasciare delle tracce seminare coltivo dove dicono che non cresce un cazzo diceva qualcuno che ci ha insegnato un po' a reppare e basta tutto qua va bene grazie grazie maura se comunque insomma hai risposto hai risposto no come dicevamo prima nel senso la cosa bella come dire di questi posti qua è che rispetto invece a molte altre situazioni magari più normalizzate dove c'è l'artista e c'è il pubblico qua obiettivamente siamo sullo stesso piano e questa è la forza che comunque spinge molti anche artisti ad appoggiare a supportare le scene come la nostra anche come dire a volte anche discutendo perché comunque la cosa sempre propositiva è anche per aumentare poi una sorta di conflitto è anche quella della discussione per cercare comunque degli spazi dove andare a cercare appunto di spostare delle dimensioni sempre verso un miglioramento dello status quo quotidiano che tutti e tutte insomma viviamo e la musica sicuramente fa da traino in questo la musica la comunità in lotta e quando si parla di comunità in lotta insomma a me viene chiaramente il movimento notava tanto da insegnare a tutta Italia in questo senso però non è anche un caso che su questo palco qua molte volte comunque hanno suonato anche i Ludalfin Sergio Berardo che vengono dall'Occitania insomma a portare avanti anche quel valore lì e prima insomma del sud dell'Occitania chiaramente per dire per dire anche la montagna no Sergio la montagna che viene in città come dire è la resistenza che parte dalla montagna quindi secondo me la presenza di Sergio su questo palco è emblematica di questo di questo come dire argomento molto molto importante prima grazie prima di tutto mi viene da fare una considerazione su quello che diceva prima Willy di quelli che però te lo sei cercato però te lo sei voluto però anche tu ecco mi sembra proprio paradigmatico di quella vittoria del buon senso sulla ragione che non profetizzava tanti anni fa Dario Fog è una cosa che è venuta in mente prima e che calza pennello su quello che tu dicevi sì ritornando a quello che appena detto Michele che cazzo ci faccio io qui io io che vengo dalle valli io che passo le mie mattinate i miei mattinate nelle scuole insegnare le canzoni occitane ai bambini che passo i miei pomeriggi a insegnare la ghironda che faccio le prove con i gruppi di musica tradizionale che mi reinvento le cornamuse che le suono che le insegno che salgo sulla punta della montagna col corrullante a celebrare il solstizio del Stato cosa ci fai tu qui in una realtà che se vogliamo è metropolitana perché la vostra realtà è assolutamente la realtà della scattazione è assolutamente metropolitana se io se io portassi qualcuno qui qualcuno del bar dove vado a vedere il Torino che gioca quando quando è fuori casa o dove vado a prendere l'aperitivo ci sarebbe effettivamente quella stessa difficoltà di comunicazione che c'era tra mi viene in me io sono vecchio vecchio proprio storico tra tra il cane e il gatto di 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 Pinaz dove il gatto pensava che cosa si dice un cane e il cane pensava che cosa si dice al gatto ecco io vengo dalla ma non perché tiro fuori gli scarponi e gli sci e vi canto lo yodel non è che me ne freghi un cazzo ma io vengo dalla montagna occitana quindi da una realtà diversa che cosa ci fai tu qua allora c'è stato un grande scrittore occitano del ventesimo secolo si chiamava Joan Budun e diceva quest'uomo in una sua bellissima poesia secondo me il più grande del ventesimo secolo su la talvero e la libertà sulla talvera e la libertà e voi dite che minchia è la talvera allora la talvera è quella parte del campo in cui i buoi si fermano dopo aver fatto il solco girano e tornano indietro si riposano se è il caso ritornano indietro poi vanno dall'altra parte c'è l'altra talvera e via così i buoi si fermavano perché adesso non ci sono più i buoi comunque questo è secondario per il concetto ecco sulla talvera è la libertà sul bordo è la libertà io mi accorgo tante volte che determina quell'idea di mainstream quel pensiero unico di mainstream una cosa vale soltanto nello stadio pieno di gente il resto non conta niente quelli che dicono io faccio pochi concerti quanto sono figo quanto sono sce quanto sono Bruno Mas questi qua io faccio pochi concerti cioè fare un concerto cioè di te ne faccio pochi con tanta gente fare un concerto è come svolgere una sana attività sessuale cioè e che cazzo vuoi che ti dica allora questi qui dicono ne faccio una ogni sei mesi ma allora ma veramente infatti cioè la prima cosa che faccio dopo aver fatto l'amore ogni volta è saluto tutti e me ne vado sì infatti è un po' questo il concetto no? un concerto è vita io suonare è importante come svolgere quell'attività che citavo per chi suona e più volte lo fai se ci riesci e meglio è per te e per chi e per chi ti sta chi sta ascoltare no? quindi io ritengo veramente un'idea miserrima quelli che dicono io faccio pochi concerti ma c'è tanta gente comunque è ancora un altro torniamo alla nostra talvera sul bordo c'è la libertà sul margine c'è la libertà non lì dentro dove tutti fanno le stesse cose nelle nostre terre alte io credo che ci sia la libertà ma non perché abbiamo la la repubblica degli escartun rinata non tanto per questo quanto piuttosto perché ci sono degli spazi di diversità che ti permettono di di guardare a quel mondo di tutti uguali con un certo distacco come se cavalcassi le cheval d'orguei vi ricordate lo cheval d'orguei di quello del bambino bretone che chiede al padre ma avremo mai un cavallo non ci abbiamo i soldi non credo che avremo mai un cavallo ma noi abbiamo il cavallo del nostro orgoglio ecco questa mi sembra una cosa un trindisciabro tratto da un bellissimo libro noi abbiamo il cavallo cavalchiamo il cavallo del nostro orgoglio di quello che siamo non di quello che abbiamo io penso che degli spazi come questo come l'asca che mi ricollega a un altro movimento delle terre alte il movimento notav sia il posto dove io vado a nuotare nel mio mare di montagna nella mia terra alta nella mia nella mia talvera ecco è per questo che io sono qui ci sono quando volete e sarò sempre felice di esserci grazie grazie Sergio queste sono parole insomma che ci fanno che fanno un sacco piacere non solamente a noi ma insomma all'intera Torino direi insomma all'intera Torino fanno piacere queste queste tue parole perché poi tra montagna e città cazzo non si parla e si ha una percezione sbagliata uno dell'altro allora c'è il museo della montagna fai saccugiate c'è il museo il museo della montagna su al monte dei cappuccini la prima io ci sono i cani non lo so come sia comunque allora la prima volta che ci sono andato al museo della montagna io pensavo di trovare un un racconto di vedere raccontata esposta spiegata la realtà della montagna della sua gente delle sue lingue delle sue tradizioni del suo modo di vivere della sua architettura no no io il museo della montagna ho trovato la tenda artica i primi sci ho trovato gli alpinisti le piccozze le racchette tutto questo quello è la montagna la montagna è il è un un parco di divertimenti per la città e questo è un rapporto sbagliato poi quando la montagna dice a casa mia decido come voglio succedono le cose che stanno succedendo che stanno succedendo in Val Susa ecco questi sono gli equivoci sono gli equivoci di un rapporto che a me sinceramente piace poco il rispetto reciproco se tu vai lì e vedi i montanari cosa sono? sono quelli che si presentano fanno capolino nei loro costumi folcloristici dove le donne da nove a novant'anni sembrano sempre gravide e sono gli scerpa del Monviso sono i gurka dell'Adamello i gurka del Don sono la cardena macello che la pianura chiamava chiamava secco questo non mi piace questo è una percezione che poi dietro c'è amore c'è l'amore per una dimensione di frontiera di avventura mister Giandui I presume è un c'è amore ma molto spesso l'amore mette gli occhiali sbagliati sul naso io credo che un po' più di rispetto un conoscerci meglio io sono venuto da sempre a portare la mia musica in posti come questo ma non per venire a fare il folclorista non per essere ascoltato per una sorta di dovere culturale come tu dobbiamo sentire questi qua perché dietro vai a sapere quali misteri di realtà culturali atavi che si nascondono no perché mi mettevo in gioco perché volevo che la gente si divertisse davanti a me ed è stato il mio modo di fare di giocare alla pari con la città di fare il contrabbandiere come hanno sempre fatto le persone della nostra montagna che portavano al di qua e al di là di una frontiera il loro sapere la loro storia le loro emozioni il loro sogno e in tempi in cui le frontiere vengono viste come un qualcosa su cui mettere dei muri il fatto che noi queste frontiere le abbiamo sempre attraversate sputandoci sopra e portate una cosa da una parte dall'altra sia un valore che i nostri occitani commercianti di acciughe commercianti di capelli commercianti di stoffe su una torre di Ghironde abbiano il diritto di rivendicare a di sosto zitto grazie Sergio insomma parliamo di spazi di libertà spazi di libertà vuol dire anche un luogo dove ritrovarsi frequentare portare avanti una musica ma che magari è cultura e che crea appunto condivisione e mettersi appunto anche in prima fila poi a creare dei momenti importanti di socialità attraverso quella musica e con queste parole che insomma voglio insomma presentare un po' per chi non li conoscesse insomma Banchia Sound Banchia Sound insomma dei ragazzi che sono anni e anni e anni che insomma sono nati da questi posti da questo quartiere creando su dei sound system autocostruiti e che insomma in questa ultima retata diciamo repressiva di sequestro dell'impianto ha colpito la repressione ha colpito anche insomma il loro sound e quindi secondo me Roby secondo me è importante insomma fa anche piacere perché non ci sono mai trovati dei momenti in cui comunque approfondire questa purtroppo l'abbiamo trovato questa sera qua però è importante perché questi spazi qua danno veramente la possibilità di creare qualcosa di creare qualcosa dal piccolo e farle diventare qualcosa di prezioso Banchia Sound grazie Miki grazie a tutte e tutti per essere qua insomma per venire a condividere questo momento di riflessione insieme grazie agli artisti che sono qua con noi sul palco secondo me c'è una parola chiave di questo discorso che è collettività che abbiamo sentito nel video all'inizio perché queste mura la scatasuna che è casa nostra perché dal 2008 credo organizziamo eventi ad un certo punto poi con il nostro sound system autocostruito è proprio questo cioè dà la possibilità di creare un modo di stare insieme diverso che è accessibile a tutti accessibile a tutte e che non è immediato dall'idea di riempire il posto di fare dei numeri ma è la possibilità di portare delle serate degli artisti dei momenti di aggregazione che sono completamente diversi da quello che invece ci propone il resto della città e io credo che il problema sia proprio questo che questa alternativa questa differenza che Torino rappresenta in maniera particolare in qualche modo spaventi o insomma crei preoccupazione perché appunto alla scatasuna non è soltanto serate pensate realizzate in maniera diversa in maniera orizzontale mi viene da dire ma è anche durante la pandemia la possibilità per chi non aveva altre alternative di fare i tamponi gratis significa che quando c'è uno sfratto ci sono delle persone che impediscono questo sfratto significa assistenza legale per chi si vede la possibilità di perdere la casa da un giorno all'altro quindi è molto di più di questo e quindi l'attacco ad un posto come questo significa l'attacco anche a quelle che sono le iniziative e il ruolo che questo posto svolge nel quartiere nella vita di tutti i giorni delle persone e niente quindi sono d'accordo con quello che mi ha detto prima circa il fatto che questa città assume un po' il ruolo di laboratorio si fa quasi del fantadiritto ad un certo punto pensate che nel 2023 degli artisti vengono diffidati dal partecipare ad un evento e nel momento in cui vi partecipano vengono denunciati io trovo che sia preoccupante che sia inquietante poi nella nostra situazione in particolare noi facciamo quello che veniva fatto in Giamaica negli anni 50 non c'era nelle radio la musica che a loro piaceva e quindi si costruivano le casse e quindi la mettevano nelle strade anche per parlare del ghetto per parlare di chi era escluso dalle discussioni mainstream ed è quello che noi in un contesto diverso come quello italiano ovviamente cerchiamo di fare in qualche modo declinando quel messaggio quell'idea del sound system come radio station come la voce di chi la voce non ce l'ha è emblematico secondo me che viene tolta la possibilità alla scatassura anche attraverso le serate di Vanchiglia Sound e di Madoka Crew di portare avanti un messaggio che è diverso che è di accoglienza di fratellanza di diffusione di un messaggio di consapevolezza soprattutto non è soltanto intrattenimento ma è anche cercare di pensare cercare di avere la consapevolezza di quello che si fa partecipando ad una serata alla scatassura e l'ultima cosa che voglio dire è che nonostante questa situazione sia preoccupante perché appunto viene colpita la musica nella sua dimensione di veicolo di un determinato tipo di messaggio di un determinato modo di vedere il mondo e di cercare di vivere la vita nonostante tutto però la solidarietà che abbiamo ricevuto da tutte altre realtà a livello cittadino a livello nazionale fa ben sperare perché come dire la campagna significa anche che ci saranno delle serate a sostegno della scatassuna a sostegno dei sound che sono stati sequestrati in città in altre realtà in Italia e quindi la resistenza che oggi più che in altri momenti sembra necessaria sembra essere ancora lì presente sembra ancora che ci sia della gente disposta a lottare per vedere le cose in una maniera diversa grazie Roby Banchia Sound è appunto uno dei sound che insomma è nato e cresciuto qua al 47 di Corso Regina con Banchia Sound insomma quello che ha portato anche la Yard così si dice in gergo appunto dei reggae fanatics no comunque essere riconosciuta anche a livello nazionale come una delle realtà più importanti ha contribuito anche Madocca e Crew Madocca e Crew che non sono qui con noi perché chiaramente sono come dire in una delle tante serate che anche al di fuori della nostra città stanno come diceva Roberto prima a livello di solidarietà è molto ampia e quindi è uscita anche dai confini appunto del Piemonte si trovano in questo momento nei pressi di Rò dove appunto hanno una serata ci hanno mandato un video che insomma ci tenevano a essere presenti qui però questo per dire che comunque la solidarietà è stata tanta e si concretizza anche dandosi una mano a vicenda nei momenti in cui comunque bisogna essere uniti per resistere perché noi siamo un'associazione a resistere ciao a tutti noi siamo Madocca e Crew giovedì giovedì gennaio quel giorno famoso che tutti ormai sappiamo c'è stato sequestrato il Sound System non sappiamo non sappiamo bene o male la sua la sua la sua la sua fine se ci verrà restituito oppure no noi siamo qui questa sera in Fornace stiamo portando in giro la nostra esperienza grazie alla solidarietà dei compagni e delle compagnie di Fornace ai ragazzi di Solgia Reber in Toddy Groove per averci ospitato e per darci voce per poter esprimere la nostra rabbia la nostra rabbia perché non ci stiamo non ci stiamo a questo ricatto non ci stiamo a questo bullismo da parte della fessura di Torino il bavaglio che hanno messo a noi agli artisti e soprattutto all'Asca Tosuna invito a tutti a seguire Asca e la mia città a seguire quello che succederà nei prossimi giorni saremo anche a Roma e porteremo anche a Roma insieme ai fratelli di Vanchiglia il discorso Asca e la mia città ciao a tutti e buona continuazione per la Torino bella bella è arrivato anche Angelo Enrico Cantamale che insomma è un po' infatti ci terebbero su questo palco che insomma la sua canzone Vanchiglia è diventata ormai quasi un inno da queste parti ci trovi al 47 chiedi di Corso Regine insomma chiedi del 47 e di Angelo il nostro cantautore e Angelo so che sei arrivato adesso ma insomma ecco allora Angelo giusto due due battute nel senso tu hai suonato dal balcone il quel famoso 15 ottobre sei stato denunciato come due battute al riguardo se sei qui è perché ancora insomma sicuramente quella denuncia non ti ha fatto sicuramente cambiare idea allora sì innanzitutto confermo tutto tutto quanto quello che hai detto assolutamente e cioè nella fattispecie quello che hanno fatto è stato terribilmente fastidioso perché ci sono procedimenti molto più gravi a cui sono sottoposti ragazzi e ragazze di Askatasuna questa cosa qua di andare a colpire gli artisti è nel marasma di cose una roba fastidiosa cioè una bassa intensità continua no e poi tra l'altro adesso ho un po' di disagio perché non sono anche un musicista vero un professionista cioè sono operaio e per risolvere questa cosa per raggiungermi con questa famosa diffida sono venuti sul mio posto di lavoro cioè per me questa cosa è stata non simpaticissima per dire proprio io direi proprio da merde ma una roba così e quindi niente la mia esperienza la concludo qua mi sono perso gli altri interventi quindi non posso ricollegarmi a nessuno perché di solito a questo punto uno dice mi ricollego a quello che io non mi ricollego a niente e niente grazie vediamo come va avanti questa cosa qua e forza dai io vorrei collegarmi su due o tre spunti che sono venuti fuori da questa discussione allora uno fondamentale è quello che si sta cioè come artisti come artisti che è una parola che mi sta sul cazzo in una maniera allucinante e non mi piace che ci chiamiamo artisti sinceramente non mi piace non mi è mai piaciuto facciamo musica cioè abbiamo questa cosa ma io quando penso a un grande artista musicale non penso a Madaschi e nemmeno a Willy Pegliotta e neanche a Sergio Berardo ve lo dico e neanche a Casacci ancora di meno però cioè il il punto il punto è questo noi facciamo musica quindi siamo facciamo del linguaggio io penso che la musica abbia la sua fondamentale e poi specialmente l'evoluzione della musica negli ultimi anni con il rap trap tutto ciò che ne concerne vicino lontano con questa cosa abbia privilegiato il linguaggio no linguaggio che noi in questo momento come non artisti ma come poveracci stiamo facendo una lotta di Davide contro Golia perché ci sono altri che lo fanno che fanno il linguaggio in una maniera molto più forte che colpisce molta gente va bene noi facciamo mi dirai facciamo la resistenza l'ho già l'ho già presa questa cioè la metto già come per scontata però la resistenza come mai vent'anni fa era forte e adesso è debole perché perché sono cambiati i modi di opporsi i modi di veicolare questa resistenza e questa resistenza è stata e continuerà ad essere sempre più colpita finché non ci elimineranno completamente perché questo è il progetto allora ci vogliono più i di peyote e meno Sergio Berardo hai capito cioè no 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 lo sto facendo in una in una o meno Madaschi cioè nel senso che ci vogliono delle persone che sappiano colpire come abbiamo fatto noi alcuni anni fa più gente perché noi dobbiamo coinvolgere più gente perché siamo troppo pochi fottutamente troppo pochi a meno che non si abbia un'esposizione mediatica che è quella che certi come me ad esempio hanno rifiutato in partenza 40 anni fa e quindi non hanno mai perseguito come come cosa ma io potessi farlo adesso lo farei tornerei indietro cioè nel senso che ho capito e capisco che questa può essere l'unica l'unico modo di opporsi perché è lodevolissimo il sound system che addirittura come concezione si riporta al fatto di fabbricarsi il suono da solo è la cosa più bella del mondo no cioè io faccio il suono io divento lo strumento io non suono ma il mio strumento è una cosa che ho fabbricato io che quindi diventa il mio strumento non so se mi seguite ma penso che sia questa l'ottica conosco abbastanza bene il movimento e la situazione ecco però siamo dei cani siamo veramente dei cani a comunicare cioè in questo in questo momento siamo inadeguati questo è il punto del del discorso che dovremmo porci siamo inadeguati a comunicare con le masse che poi decidono e che vanno da una parte o dall'altra hai capito perché perché chi comunica veramente sono delle persone che sono scelte in maniera estremamente ed unicamente a livello di profitto annualmente da un paio di 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 cose e queste purtroppo non ci vengono ad aiutare e non ci vengono ad aiutare perché io voglio fedez qua io voglio fedez io voglio fedez a questo no 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 cioè veramente cioè questa questa nostra situazione dei denunciati eccetera eccetera visto che questo è il paladino no del 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 nuovo essere ecco cioè voglio che una persona del genere si interessi è possibile secondo me no soluzione una cappata in testa scusa Emada io ti dico una cosa ma è l'applauso perché il finale è sempre gattia no però è per il discorso della comunicazione io volevo dirti una cosa se tu 40 anni fa avessi scelto di essere più esposto magari adesso saresti lì che fai il cicciu a X Factor capisci saresti lì che fai il e invece tu sei tu adesso ricordatelo bene tu non hai sbagliato a non essere esposto se gli amanuensi che invece di mettersi con gli altri barbari a bruciare tutto non fossero rimasti lì nei monasteri a trascrivere noi non avremo tutta la ricchezza dell'antichità classica non è adeguandosi ma facendo magari un passo indietro e aspettando perché ogni tanto bisogna anche avere avere il coraggio di aspettare perché se qualcuno diceva che il mezzo è il messaggio se tu ti adegui anche troppo a un certo modo a un certo modo di essere sei portato via da una corrente che è più forte di me è più forte di te ricordi mi far designi sul morto no figurati io penso che siano vere entrambe le cose che avete detto innanzitutto c'è da dire che io sono cresciuto col vostro esempio in tempi in cui c'era un pubblico che si cercava quella cosa lì per sentirsi in qualche modo rappresentato anche nelle istanze politiche ma comunque di scelte di vita di un certo tipo quindi siccome Madal se ho capito bene è cambiato un po' il modo di comunicare Fedez si farà mai portavoce della nostra battaglia? no perché quella battaglia non è monetizzabile quindi a lui non interessa questo è il motivo per cui dovremmo smettere di appaltare la rivoluzione ai miliardari innanzitutto dovremmo partire da qua cioè smettere di pensare che una persona come Fedez sia effettivamente il paladino di qualcosa che non conviene a lui questa cosa bisogna senza nulla togliere a Federico e a sua moglie e tutto quanto e che fin tanto che noi pensiamo che quelle persone lì che sono lì per monetizzare innanzitutto per loro stessi e non per altri possano rappresentare la lotta in qualche modo l'errore lo facciamo noi quindi sono d'accordo con te che il sistema certo certo ma il sistema e il pubblico pensa che lo facciano pure sono d'accordo con te quindi se tu vuoi fare se tu vuoi se tu no 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 ma è tanto bisogno se tu vuoi fare una lotta devi colpire secondo me devi colpire dei personaggi ma colpire non vuol dire come io ho detto prima che hai una capata una capata in testa anche se mi piacerebbe molto però il fatto è che è che devi tornare cioè devi trovare un modo musicale perché noi siamo artisti no di essere più forte devi tornare più forte perché io sono stato forte e so come ci si sente a essere forte cioè essere forte o a essere comunque spalleggiato da un bel po' di persone che la pensano come te e che non la pensano come la maggioranza invece adesso noi siamo pochi siamo così in ci stiamo contraendo e non riusciamo a lottare non riusciamo a lottare cioè questa è la cosa non riusciamo a dire le nostre cose perché le nostre cose vengono sommerse da una montagna di spazzatura e di cazzate che dicono gli altri è questo il senso della mia lotta però hai ragionissima ed è anche scusatemi se non volevo interrompere l'applauso che era sacrosanto era per dire che il problema secondo me bisognerebbe analizzare anche quanto è cambiata la comunicazione nel senso comunque non possiamo prescindere dal fatto che io da ragazzo avevo bisogno che qualcuno mi rappresentasse con le sue parole oggi io prendo apro da twitter a qualunque altro posto e le mie parole semplicemente le butto lì nel momento in cui tutti ci esprimiamo continuamente la musica di rappresentanza perde anche un po' di valore cioè bisognerebbe analizzare io me lo pongo tutti i giorni questo problema qua per cui sono arrivato a pensare questo cioè nel momento in cui tutti dicono la loro serve che ci sia un artista che dice la sua per rappresentarmi e serve fino a un certo punto perché se no il problema che ci stiamo ponendo non ci sarebbe di conseguenza serve quando la cosa è di moda quindi si mischia tutto si mischia l'hype quindi io lo capisco profondamente quello che dicevi tu e cerco di fare tutti i giorni una via di mezzo tra l'essere coerente con le idee che mi avete trasmesso voi e al tempo stesso cercare di di comunicare a più gente possibile mi rendo conto che è un momento appunto nel quale la comunicazione non viene premiata in musica e torniamo al discorso della grande distribuzione del pensiero unico che ha citato lui semplicemente secondo me il divide timpera funziona sempre cioè chiudere questi posti qua io le ricevo anche le denunce effettivamente a dire la verità no a parte le battute però sì ma noi l'abbiamo fatto però era per dirti c'è sempre meno gente più giovane di me che lo fa e anche nel contesto in cui mi muovo io c'è sempre meno gente che in qualche modo fa questa musica di denunce secondo me di nuovo torniamo al punto di non vorrei accusare per forza c'è tolto Federico che invece si è accorsato quello che diceva Mada sul suo ruolo non ne faccio una colpa dei ragazzi che usano meno la musica come mezzo di esprimere la propria opinione credo sia si debba studiare e forse come diceva Sergio bisogna trovare anche la pazienza di aspettare un attimo perché secondo me è un momento molto confusionario forse non è oggi che dobbiamo trovare una soluzione oggi dobbiamo resistere nel senso reale del termine cioè aspettare che passi la tempesta un secondo e intanto riuscire a trovare un canale per esprimere queste cose dopodiché sono d'accordo con te manca manca profondamente la rappresentanza di certe istanze siamo sempre meno perché oggi qua ci sarebbero più gente ci sarebbero più persone anche oggi e come dicevo prima quando si annuncia al TG regionale che noi abbiamo preso una denuncia qualcuno avrebbe detto qualcosa nessuno ha detto un cazzo da nessuna parte io vado in giro per l'Italia nessuno non sapeva nemmeno questa notizia nessuno ma neanche chiesto conto di sta roba perché non lo sapevano nemmeno non se lo pongono proprio questo problema qua io credo che 10-15 anni fa se un artista fosse denunciato per un concerto se ne sarebbe parlato negli ambienti anche se lo vicini a quel cazzo di movimento lì no, niente nessuno lo sa a Roma non lo sa nessuno dimmi ciò dici una delle facce che vedo qua viste anche al dibattito che c'era stato per il compiato dei murazzi rispetto al panorama musicale nel senso che comunque gli spazi dati da questa realtà murazzi da monitorino poi a scattosurre e tutto quanto hanno creato un ricco vaccino di persone che poi hanno fortunatamente fatto anche la cosa preoccupante di adesso mi attacco un po' alla citazione di Federico che il nostro amico lo chiamiamo per nome giustamente che persone che poi arrivano da certi giuriti neanche più cioè voi fortunatamente su questo testo che tutti che abbiamo ringraziato che è meno meno male che avete avuto un vaccino che è tutto quanto che è riuscita ancora a portare la solidarietà a metterci la faccia a metterci il nome e tutto quanto perché invece per tante altre persone è stato un po' il trampolino di lancio in anni in cui non c'era un cazzo non c'era la possibilità di fare musica da nessuna parte e poi dopo grazie a tutti questo è vero e questo è veramente triste nel senso che comunque il fatto che adesso tramite queste denunce le distritte e tutto quanto stiano cercando di criminalizzare questo tipo di solidarietà ma anche questo tipo di ammissione del fatto che alcune realtà per tanti anni siano state fondamentali per una crescita musicale di linguaggio di espressione di arte di arte culturale in senso assoluto culturale ieri c'era Michele tutta una serie di persone che continuano a portare solidarietà quello che loro vogliono fare è cancellarlo fare finta che questo binomio non ci sia perché ci sono quelli che poi vanno su Netflix o vanno in Sanremo e poi ci sono i cattivi dei centri sociali ecco la vostra partecipazione a quella giornata ha voluto dire tanto in realtà sul fatto di non non fargli fare questo taglionetto cioè questo binomio tra spazi culturali e pensiero in Italia esiste no senza dubbio esiste purtroppo ha meno valore di quello che ne aveva quando io crescevo in quell'ambiente che mi ha formato e che ha formato anche Michele anche Zero Calcare credo sia cresciuto in un ambiente simile però poi Michele fa la sua serie ed è su Netflix poi io vado a dirle mi minchiata a Sanremo quindi si può comunque fare non è semplicissimo devi beccare anche momenti in cui quella roba un po' finisce nell'essere di moda e se passa la moda intorno a un certo movimento che in qualche modo ha anche queste istanze poi gli artisti vengono quelli che vogliono solo fare il grano o vogliono solo essere famosi che sono due facce della stessa medaglia già di ottimizzare il profitto in qualcosa e se non paga più cioè è vero che chi faceva protestava per moda perché una volta andava di moda a protestare e c'è chi oggi non lo fa più perché non è più di moda a protestare quindi quel principio purtroppo esiste ed è sempre esistito che qualcuno si accodi alla moda sia nel bene che nel male io credo che era solo per allargare un po' il campo è però palese o agli assotto gli occhi di tutti che i luoghi siano sempre meno che la proposta sia sempre meno questa cosa purtroppo è un dato che stavamo analizzando tutti nelle nostre visioni anche il fatto che la montagna venga vista solo come folklore cioè è tutto un continuo restringere sempre più il campo portare la gente sempre più nei luoghi tutti in città lasciamo le campagne lasciamo le montagne facciamo tutti la roba che funziona facciamo tutti i mestieri che ci assicurano andiamo tutti a comprare il supermercato prima c'era un dibattito che parlava di coltivazione anche il fatto che sia incentivata la grande distribuzione a dispetto dei piccoli cioè raga è palese che sia un meccanismo che circonda tutti gli aspetti della nostra vita quindi non possiamo pensare che l'arte che è espressione della vita in qualche modo ne sia immune questo era il senso dopodiché siamo qua apposta per dimostrare che si può provare a farlo ancora e lo faremo ancora siamo tutti sempre più vecchi però io non vedo un ragazzo di 18 anni sul palco che fa questo discorso al posto mio ce ne ho comunque 38 io sono quasi il più giovane sul palco sta roba è un problema nel senso che se guardiamo in prospettiva questa cosa fa pensare a tutti che servirebbe sempre più ricerca di cambio generazionale perché se io sono quello giovane abbiamo già un problema hai capito? è già un problema di base e questo qua e non è colpevolizzo i ragazzi colpevolizzo il fatto che gli si è fatta passare la voglia invece io a 16 anni avevo voglia di essere quello che facciano loro e l'ho fatto in qualche modo oggi perché qualcuno dovrebbe voler essere al posto mio in qualche modo sì scusami posso dirti una cosa dalle mie parti adesso non è che sto dicendo che sia il paradiso in terra perché le zone le zone ma vaffanculo le zone marginali essendo estendo state così escluse per così tanto tempo da scelte da tutto il resto si sono sempre più chiuse verso prospettive neo vandeane un pochettino un pochettino retrive quindi non è però dalle nostre parti io vedo i gruppi di ragazzi di 17 18 di 20 anni quelli vecchi che si prendono una ghironda un organetto ci mettono sotto un basso una batteria qualcuno sta cominciando anche con con l'elettronica e fanno la loro musica ecco perché c'è un'identità un'identità è sempre una cosa molto molto forte capisci quello che intendo dire io come altri dalle mie parti io soprattutto abbiamo lavorato su un discorso identitario quando dici identità molto spesso a sinistra sei guardato come uno che ha il Ku Klux Klan come come riferimento ideologico è quella una cazzata pazzesca perché questo questo tipo di mondo globale è proprio quello che ha sempre quello funzionale alle multinazionali e tutto il resto è quello che ha sempre voluto cancellare ogni forma di identità altra diversa ecco il discorso dell'identità da me nella nostra piccola realtà funziona questi ragazzi che si ritrovano a a far le prove suonando la musica tradizionale e come da altre parti potrebbero trovarsi a giocare a far finta di essere i gangsta della West Coast e invece no da noi suonano la viulo e se mi tome io sono ben contento di questo perché almeno sono modelli culturali nostri e sono patrimonio dell'umanità se io fossi l'UNESCO li insegnerei subito di quel tipo ecco se c'è quello che manca secondo me è quel che citavo prima un'identità un'identità operaia un'identità cittadina ma non nel senso un'identità del quartiere un'identità della tua realtà della tua comunità quella secondo me è una cosa molto molto importante ed è stata snobbata per chissà quanto tempo dai pensatori che trovavano figo soltanto omologarsi a modelli che arrivavano da chissà dove capisci cosa voglio dirti ci sono io credo delle possibilità sono piccole io prima citavo gli amanuensi nascosti silenziosi e Picuro diceva vivi nascosto ogni tanto può essere anche interessante soprattutto in questo momento in cui non esisti se non hai un certo numero di visualizzazioni che durano quanto magari vivi nascosto quello che fai dura per tanto tempo di più io non lo so la vedo così grazie allora faccio giusto un po' perché insomma sono usciti molti discorsi insomma chiaramente partendo poi da quello che è successo vedete che comunque poi sono tante le cose da dire che escono e ce l'avevamo detto anche in precedenza che era un talk molto anche da salotto tra virgolette dove come dire partendo purtroppo da una situazione comunque di attacco chiaramente sta a noi poi trovare anche dei metodi per uscire da questo isolamento e quindi benvenga tutte le discussioni che portano appunto poi per cercare di restare uniti e uscire da questo isolamento che alla fine la controparte insomma storicamente poi cerca come diceva dividi e timpera e tutto e vorrei solamente prima di come dire di salutarci e tutto e aprire magari delle domande dal pubblico perché so che comunque ci sono e quindi vabbè si sente ma infatti è veramente difficile uscire e portarla al pubblico però non la facciamo volevi spessare l'arancia quindi bella dire wow sì no volevo infatti sì sì no no ma infatti volevo dire una cosa andando in giro mi sono accorto davvero che magari sì non ci sono le masse ma le masse non hanno mai cambiato il corso delle cose neanche la storia la storia la cambiano le minoranze rumorose e agguerrite è vero che siamo di meno ma io andando in giro ho visto che questa minoranza è bella agguerrita sempre di più ci stanno colpendo da tutte le parti però ecco sì se la guardi dal lato artistico c'è ben poco magari da sperare avete già detto tutto bene benissimo voi due io però per esempio partecipando anche al presidio di GKN diverse volte sia come persona che come rapper sono andato lì a suonare e ho visto ho visto quello che aspettavo di vedere da tanti anni cioè in Italia in questi ultimi due anni si stanno creando delle situazioni che prima non c'erano quando prima Sergio diceva dell'identità operaia l'identità operaia quest'anno ha ottenuto per la prima volta dopo anni risultati che neanche un partito ha mai ottenuto cioè per la prima volta le vertenze si sono unite il movimento operaio sta ritirando sulla testa dopo tantissimi anni e lo dico perché io nella musica hanno sempre parlato di questo e infatti volevo anche dire che ci sono anche tanti ragazzi giovani che fanno musica che nascono già in questa situazione qua non gli piace e cercano di trovare delle contromisure e quindi ci sono delle cose che nascono per strada no? delle cose c'è lì alza la mano sì no? lei si impegna tantissimo e fa quello che non ha mai fatto nessuna si cerca di gettare dei semi come dicevo prima ma la cosa difficile è che noi veniamo messi proprio cioè quasi ghettizzati spesso dai artisti stessi cioè il rap poi è uscito totalmente dai radar di musica per dire cose diciamo dico di protesta ma anche se un termine è che suona veramente vecchio però ci siamo capiti il rap è diventato una musica borghese una musica che parla solo di questo concetto del self made man arricchimento personale cosa che invece ma perché qua si è solo quell'aspetto alla cosa anche che lui prima parlava del gangsta rap io sono un amante del gangsta rap stasera sono vestito come gli NWA perché sono un sedicenne che c'è ancora dentro c'è quella passione da ragazzino e il gangsta rap cosa dice gli NWA in un'intervista dell'89 dicono guardate che il gangsta rap non è solo armi criminalità droga lotte tra gang il gangsta rap è anche lotta alla povertà lotta per i diritti dei neri e critica la società americana dal basso quindi io quando vedo quello che è diventato adesso rap mi chiedo cos'è che non è chiaro cos'è che a questa gente non capisce cioè si è presa solo quella lettura lì e si è fatta esplodere nel ventennio berlusconiano ora non si torna più indietro quello che io dicevo che sfrutto il fatto di non essere popolare per andare in giro e ad aiutare le lotte quando iniziano quando le scintille vanno tramutate in fiamme io poi vado via di là perché poi quando le lotte hanno bisogno di visibilità io lì non conto più nulla io faccio il mio faccio il lavoro sporco perché so che come dicevo prima utilizzo questa cosa per andare in giro a fare la scheggia impazzita ma lì lì trovo quello che mi fa andare avanti quello che mi fa prendere i treni senza biglietto quello che mi fa andare a fare i benefit con 10 euro in tasca con i soldi concordati che prendo e poi dico di tenersi per le lotte e metterli nella cassa perché vedo i ragazzi quando sono sul pullman per andare che partiamo da Torino per andare a fare i cortei che cerco di esserci quando posso a volte mi trovo in mezzo ai ragazzi del liceo dell'università e mi piace mettermi lì in un angolo osservarli guardarli io sono sicuro di essere in buone mani anche se sto invecchiando io mi sento davvero di essere in buone mani fanno dei ragionamenti che io quando avevo 20 anni non facevo si fanno trovare pronti stanno costruendo un qualcosa nel nulla è perché poi noi qua parliamo ma io in quegli anni là cioè se ascoltavi Rage Against the Machines scopavi di più è vero o no? e allora funzionava quella roba lì adesso invece questi ragazzi più giovani noi che continuiamo a farlo veramente cresce cioè qua questi ragazzi stanno costruendo dal nulla e quindi cosa possiamo fare noi che siamo più vecchi? nel mio essere nessuno quando qualche ragazzo quando mi ritrovo ad avere a che fare con dei ragazzi più giovani io cerco solo di trasmettere la passione se ti appassioni alla cosa se ti appassioni a quella cosa che mi fa anche fatica a chiamare hip hop è una parola che ti ricordi non diciamo mai ma poi io non lo dico anche lì cioè tu lo sai che io vivo hip hop dalla mattina alla sera ma non la dico mai per il rispetto che ho poi perché non è una religione è un movimento culturale però nell'hip hop c'è scritto tutto basta solo andare a leggere poi ognuno gli può dare la sua interpretazione ma lì c'è scritto che cos'è il gangsta rap lì c'è scritto dove nasce la cosa lì c'è anche scritto che c'è tante versioni della cosa però lì dici anche una frase che è sempre stato un po' il motto e dice rivalsa personale riscatto collettivo la cosa che dicevo prima io che cerco di ridare indietro la fortuna che ho quando poi alla fine non vengo coinvolto in delle cose anche più grosse e sono ancora qua poi alla fine me la cavo con una firma è una bazzecola quella che è capitata a me a noi come si dice mi sento di ridare indietro questa cosa qua è sempre una questione politica e poi è una questione dell'hip hop quindi le cose ci sono già lì basta seguirle purtroppo non le segue nessuno ma sono veramente fiducioso nelle nuove generazioni perché quando sto lì con loro quando vedo come si comportano cosa fanno insomma secondo me si sta costruendo come sempre dalle macerie quindi dobbiamo essere positivi e far sì che le minoranze siano sempre più rumorose e agguerrite bene grazie Mauro non so adesso 2315 insomma è stato un vero e proprio talk nel vero senso della parola però sicuramente come in uno di tanti comunicati che abbiamo fatto uscire appunto di risposta a poi a quello che è successo Asca è la mia città perché comunque usciremo anche da queste quattro mura ci sono già state tante iniziative fatte in altri spazi che siano appunto centri sociali o circoli o quant'altro perché è chiaro l'intento che siamo anche ancora qua a parlarne perché chiaramente questa cosa qua deve uscire bisogna far parlare di questa cosa qua è un precedente comunque sicuramente preoccupante l'aria che tira non solamente in città ma anche nel resto d'Italia non è buona e sta a noi artisti tra virgolette dai palchi in tutti i modi cercare come dire di portare anche una narrazione diversa di prendere posizione di fronte a queste ingiustizie reali e dall'altro anche cercare di spostare più masse possibili in sostegno appunto alla causa quindi penso che anche dibattiti come questi vada una affrontata purtroppo ci ritroviamo qua perché è successo il sequestro dell'impianto i sigilli comunque un duro attacco al movimento notabile lotta abitative alla scatassuna però sono discorsi che comunque vanno affrontati in tante parti d'Italia non soltanto nei centri sociali dove per fortuna ancora si riesce a discutere di queste dimensioni qua che chiaramente poi vanno ampliate e sostenute per chiudere un po' il cerchio nel senso abbiamo visto il video ci saranno anche altre iniziative dopo il festival altri mondi altri modi con una frase che secondo me è molto importante e che dà appunto un rilancio a quello che stiamo parlando adesso ci trovi al 47 e in città organizziamoci insieme a testa alta perché la scatassuna non diventi territorio di conquista ma continui ad essere spazio di lotta e di rilancio per tutti e tutte questa secondo me è la parola la frase chiave che un po' può racchiudere tutti i discorsi che ci siamo fatti su questo palchetto e quindi ogni ogni situazione che ci troviamo davanti deve essere presa come prendere parola ci sono insomma ci avviciniamo anche al 25 aprile la data del primo maggio insomma tutte date comunque importanti dove comunque anche questo discorso qua nel senso che come una parola una frase che dopo il concerto del 15 ottobre ci volevano zitti ci volevano tristi ma canteremo comunque a squarciagola che nel senso ci potete togliere tutti gli impianti che volete ma non si inizierete mai le lotte e la volontà di farne parte grazie prima di salutarci e di ringraziare Vanchia Saum Madocca Crew Enrico Cantamale Willy Maura Sergio Berardo Mada insomma e anche tanti artisti che comunque è vero quando diciamo che magari insomma c'è da lavorare ancora però almeno Torino ha risposto presente e anche comunque in Italia è arrivata tanta tanta solidarietà e questo comunque non a caso infatti siamo un po' ovunque insomma con la Campagnasca e la mia città ci tengo solo un attimo a ricordare anche gli appuntamenti dell'ultima giornata del festival Altri Mondi Altri Modi che sarà domani perché insomma è importante anche partecipare a tanti dibattiti e tanti spunti oggi abbiamo voluto un po' approfondire il tema musicale partendo appunto da questa sciagura tra virgolette dei sequesti e dei sigilli per cercare ovviamente sempre di rilanciare allora vi ricordo solo gli appuntamenti di domani alle ore 15 la presentazione del libro Cemento Arma di Costruzione di Massa con l'autore Anselm Iappe alle ore 17 la tavola rotonda Territori Cementificazioni e la retorica Green dove appunto ne parliamo con Fabio Balocco Roberto Mezzalama Alberto Poggio Maurizio Piccione Maria Cariota e Laura Laura Lossi del Comitato Salvare il Meisino alle ore 20 Pianoforte a quattro mani progetto terzo sottoscala d'arte musiche di Mozart e Albenitz e il duo Minotauro violino e contrabbasso e alle ore 21 la proiezione del film La Scelta con il regista Carlo Bacchmidt e ci tenevamo comunque anche a chiudere con la proiezione della scelta perché penso che se siamo qui oggi perché è una scelta di parte l'abbiamo fatta grazie